cosa dovrebbe provare un interista in questo momento cosa dovrebbe provare se volete vi dico cosa provo io magari è lo stesso che provate voi io provo orgoglio orgoglio per due motivi per essere arrivati fin qua nonostante un girone dantesco nonostante due partite porto e benfica che sembravano facili ma col cazzo che lo erano orgoglio per aver eliminato i nostri rivali di sempre ma orgoglio soprattutto per aver reso questa partita una partita equilibrata se invece che a calcio si fosse giocato a box si fosse tirato di box avremmo vinto noi ai punti perché ragazzi miei il pareggio era più che meritato io devo fare una manifestazione di orgoglio soprattutto nei confronti della nostra difesa perché il signor a land miglior attaccante del mondo secondo i sapientoni e è ancora nella tasca di acervi e di bastoni non ha fatto assolutamente nulla ha fatto cagare cagare oltre all'orgoglio provo ramarico ramarico per le occasioni sprecate una quella di lautaro drammatica perché aveva sia lukaku che brozovic a cui passarla prima in quei momenti l'istinto del bomber prevale sulla razionalità e poi ragazzi la sfiga la sfiga perché qui non si può parlare di errore non si può parlare di gol mangiato si può parlare solo di sfiga quando tu fai un colpo di testa che colpisce la traversa ti ritorna in testa e col colpo di testa colpisci un tuo compagno fatalità lukaku il quale nell'ultima finale europea che avevamo fatto aveva fatto la stessa cosa ti vengono le tiventi girano i coglioni perché dice allora allora è proprio destino allora è proprio il destino avverso per non parlare poi del colpo di testa di lukaku a 30 centimetri dalla porta che va a sbattere esattamente sul ginocchio del portiere avversario di ederson orgoglio rammarico orgoglio e rammarico però una cosa ve la dico ragazzi io quest'oggi mi sento ancora più interista rispetto a ieri mi sento ancora più interista perché ho visto una squadra in campo che non aveva nulla da invidiare alla miglior miglior squadra d'europa quella che si è portata a casa la champions non dico per carità immeritatamente ma noi non usciamo a testa alta usciamo a testa altissima so che ci sfotteranno per questo so che non conta nulla uscire a testa alta da una finale però ragazzi però ragazzi che li abbiamo fatti vedere i sorci verdi meritavamo il pareggio meritavamo forse anche la vittoria meritavamo di più meritavamo di più però è andata così ragazzi è andata così non c'è delusione assolutamente io sono orgoglioso di questi ragazzi come tutti noi interisti dovremmo dovremmo essere perché quella squadra lì ci ha fatto sognare ci ha fatto sognare per 90 minuti abbiamo limitato la squadra più forte d'europa quelli che avrebbero dovuto prenderci a pallonate quelli che avrebbero dovuto vincere 4 a 0 facile se la sono vista brutta ma non cambia niente non cambia niente chi vince ha sempre ragione il manchester city dopo aver speso miliardi di sterline riesce finalmente a coronare il sogno di vincere la sua prima champions league noi andiamo a casa orgogliosi noi andiamo a a casa distrutti psicologicamente rammaricati ma senza dubbio orgogliosi orgogliosi di aver tenuto testa ad una squadra formidabile orgogliosi di essere arrivati con fin qui e ragazzi forza inter forza inter sempre forza inter sempre sono questi i momenti in cui ci si deve essere ci si deve sentire più interisti rispetto a tutti gli altri giorni facile sentirsi interisti quando si vince sono questi i momenti in cui il vero interista viene fuori il vero interista accetta la sconfitta il vero interista si rammarica ma ci riproverà perché noi in finale di champions credetemi ci torneremo e ci torneremo molto presto